Anzi hacikaldi, staram in scheda, beh patente tu, definizione stradali, chapter numero 1, qui è zona a traffico limitato, limited traffic area. Allora, vediamo un po', una zona a traffico limitato è un'area in cui può essere limitata la circolazione dei veicoli solo in alcune ore. Questa è una zona a traffico limitato, una zona a traffico limitato, limited traffic è un'area in cui si può essere limitato, la circolazione dei veicoli, di a traffico limitato, sia una zona a traffico limitato, la circolazione dei veicoli, la categoria è una rana la quale e candi o hissa jetevi e chupo essere limitata bandi suonji bandi suoi ho i ho saka via solo solo adicca edificio vero di particolare categoria di veicoli solo sirf us per cardia gatti 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 della strada la strada il porsonino chiracolaro dei coli solo i vei coli autori già ti iti viso la viera che è scella fatti si raffi non gatti hanno permiso hai giù autori già ti permiso ovi da di già santi e un'arri nella quali poi essere limitata la chiracolazione solo a particolare categorie di utenti io ho iso hi che si è ovviamente che ci si è raffiato un'eurodivo fino a un'escalo di un'escalo, che si è ovviamente si è raffiato un'escalo di un'escalo, non è necessario che l'escalo dell'escalo. Un'escalo delimitata è la possibilità di un'escalo di un'escalo di un'escalo. il modo di fare che ci sono i correnti quando si è arrivato a fare il fatto di aver non si non sono entrade, più di un certo numero di dirò che è la lotta i condi di essere ma l'allocciare sognanti di 100 si è la scuola, la scuola è la scuola. La scuola è la scuola è la scuola è la scuola, l'acqua è la scuola, la scuola è la scuola la scuola è la scuola, la scuola, la scuola è la scuola è la scuola, la scuola è la scuola si rafata si rafano che la chiamo torre di bici che le ti alì è leggezza da fare che fai al suo è un'area ok è un'area sempre vieta tal tranzito di veicoli motori è che ande o zonai da dove ci ha mai sè i gatti e ingeriori in generale in generale già di mani e scacca che fai al suo che ne giro di nini mani e ho vede bando di show vede ho sagnata che cos'è ricordata di un po' di nuovo no ho canico store c'è ricordi un quadri di nuvo un bello facebook per sari e non di riditi esco qualche fai ha allora e un orale vieta thalterà si do di pedoni durante le ore no toro e candi e o aria zona una zona attrafico limitato e un orale vieta thalterà si do di pedoni durante le ore no toro e ora in a transito hondi anna jana pedo un chalante per durante il termino le ore no torna rada di te mcd e o isa di te rada di te m torna ferno pedo lale bandia jano manahia o aja di sada eskarki falso con tui soja rana colgheer singh perla bada bada chapter pande chute 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 non da me panthwa david maate stress nirende tue jade e chakla viz thalma ma kalia thalma la 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 la